Mark Scrimshaw, coordinatore del consorzio InCatch Horizon 2020, quanto stanno diventando importanti anche per il monitoraggio intelligente delle acque e l'utilizzo delle nuove tecnologie, ad esempio i droni usati già dal vostro progetto innovativo al lago di Garda? Le nuove tecnologie naturalmente offrono grandi opportunità di collaborare con nuovi stakeholder, con nuovi partner, le tecnologie sono facili da implementare, sono anche molto divertenti, infatti tutti amano giocare con le barche robotizzate, inoltre la qualità dei dati sarà molto alta, molto elevata grazie a queste tecnologie e sarà possibile avere dati di elevatissima qualità, quindi affidabili in tempo reale, Oltretutto sarà possibile scaricare un'app, quindi utilizzare anche a livello di singolo utente individuale un'app sul proprio cellulare, questo non farà altro che impegnare sempre di più le persone nei confronti della questione ambientale e molto probabilmente tra il 2020 e il 2050 le nuove tecnologie avranno proprio questo effetto, cioè consentire una maggiore partecipazione e impegno da parte di tutti.